Il 30 ottobre dell'anno scorso sono stato invitato a sviluppare una relazione su quella che è la didattica nella tecnica delle costruzioni. E quindi in quell'occasione lì mi sono potuto esprimere su quelle che sono le mie idee sull'insegnamento di questa materia, di questa disciplina qui. Ecco, io vorrei partire da questo aspetto qua. Quando noi professori siamo appellati in qualche maniera, il termine giusto è chiamarci chiarissimi. Quindi dovremmo essere, ciascuno di noi dovrebbe essere un chiarissimo professore. E il termine chiarissimo sta a indicare proprio l'importanza della spiegazione, dell'esprimersi, del chiarire e dell'insegnare. Quindi il termine, l'aspetto didattico è un aspetto che è essenziale, centrale nel nostro ruolo di professori. Nel settore tecnica di costruzioni, questa è la declaratoria del nostro settore, si occupa della concezione strutturale, del progetto di nuove costruzioni, ma anche alla verifica e la realizzazione strutturale delle costruzioni esistenti. E qui, per esempio, nella declaratoria, dopo segue tutta una serie di specificazioni su quelli che sono i contenuti del settore. Quindi noi tendenzialmente, cioè noi tendenzialmente, noi ci occupiamo delle azioni sulle costruzioni, il comportamento strutturale, come detto, la progettazione strutturale, quindi metodi che servono e gli strumenti che servono a progettare una costruzione, a realizzarla e anche a gestirla. Dobbiamo sviluppare valutazioni di vulnerabilità, affidabilità, comfort, sicurezza e durabilità. Una parte essenziale del nostro settore riguarda la sperimentazione, quindi una sperimentazione dal vero di strutture, quindi gli aspetti relativi al collaudo e molto raggiunto delle costruzioni. E poi ci sono degli aspetti più generali che riguardano le indagini sulle costruzioni storiche e gli aspetti anche più ampi della progettazione che riguardano l'architettura strutturale. Per me il settore di tecnica delle costruzioni può essere descritto da questi cinque statement, da queste cinque affermazioni, e le vedremo nel corso di questa presentazione qua. e le prime quattro sono aspetti che riguardano in generale quali sono gli approcci e le attitudini del settore, della disciplina e tecnica di costruzioni. E queste quattro attitudini, queste quattro osservazioni qua, serviranno a evidenziare, entreranno in gioco nella definizione di quello che è l'insegnamento della disciplina, che dovete tenere conto appunto di queste quattro prime affermazioni che sono i caratteri generali. Vediamo quindi quali sono i presupposti della tecnica delle costruzioni. La prima affermazione è questa. La tecnica delle costruzioni, che si occupa di concezione e progettazione strutturale, è una disciplina di sintesi, in cui confluiscono idee, teorie, metodi, strumenti, sperimentazioni, principi anche empirici, anche una grossa parte oristica, che porta alla scelta oculata di schemi portanti, lo schema quindi nel complesso, gli elementi, i componenti, i materiali strutturali, tutto ciò partendo da una solida e ampia base culturale. La progettazione è un processo che, secondo Schleich, può essere rappresentato, sintetizzato da questo vortice. Come vedete qui ci sono diversi aspetti, come l'uso, l'economia, la forma, gli aspetti di dettaglio, chiaramente l'interazione con il contesto, l'environment in cui deve essere posizionata la costruzione, e tutte queste varie istanze dopo trovano convergenza nel progetto, e quindi in una maniera, diciamo, continua, arriva a una soluzione che permette la realizzazione di una costruzione. È un processo quindi, come vedete, variegato, proprio in cui diversi aspetti devono essere sintetizzati per arrivare a un unico punto, a un'unica soluzione. In generale, a parte Schleich, forse il tema del progetto, secondo me, può essere letto in questo bellissimo libro di un famoso designer, Munari, in cui lui spiega quello che è, chiaramente con riferimento al design, cosa vuol dire progettare qualcosa. E, in particolare, Munari parte considerando che già nell'affrontare piccoli problemi, si impara quello che è la mentalità di un progettista. Dopo, secondo Munari, un'opinione che io condivido anche, il metodo progettuale poi non cambia molto a seconda dell'oggetto che si deve progettare, ma è un'attitudine, una mentalità, poi chiamano, chiaramente, i dettagli, anche in aspetti, diciamo, di competenze specifiche, ma l'idea è la stessa. Il progetto, quindi, in generale, l'attività di progettazione, può essere, in termini generali, espressa come un'attività, possiamo dire, di problem solving, in cui si impara a risolvere un problema, in particolare si costruisce, passo dopo passo, la soluzione al problema. Munari ha anche delle frasi, delle affermazioni che sono significative, che secondo me sono anche alla base dell'attitudine di qualsiasi progettista, quindi sono al cuore anche di chi insegna e di chi si applica nella tecnica delle costruzioni. Il metodo progettuale è anche un qualcosa di liberatorio, un'attitudine costruttiva ad affrontare i problemi e a costruire una soluzione. e questo metodo progettuale, questo approccio qui, può essere esteso a qualsiasi cosa, per esempio anche ad aspetti ed analisi, indagini sulla biomeccanica o a qualsiasi situazione in cui ci sia qualcosa che richiede un sistema, che richiede uno schema portante che sopporti dei carichi. Quindi è del tutto generale l'approccio di tecnica delle costruzioni per quanto riguarda la progettazione, quindi vale dal design, quindi anche al limite più basso, di scala più bassa dai mobili, aspetti più generali come sono le indagini, le valutazioni e quant'altro, per esempio sulla biomeccanica, ma si estende chiaramente anche ad altre ripristrutture come possono essere anche al limite aeroplani, navi e altre situazioni. Uno degli aspetti che deve essere considerato come fondamento, come qualità della progettazione, è l'ergonomia. L'ergonomia quindi in particolare si occupa dell'interazione tra il sistema, come progettato, e come questo sistema progettato deve assolutamente rispecchiare e soddisfare le funzionalità del cliente, dell'utente, quindi la persona che dopo utilizzerà il sistema. In termini generali, quindi ci sono anche nella progettazione aspetti che sono anche cognitivi, ovvero come, se pensiamo anche gli utenti di una costruzione, come può essere anche un condominio, un edificio, un palazzetto di esporto, o quant'altro, come questi utenti percepiscono la struttura, e quindi come anche il progettista nella creazione, nella concezione delle sue strutture, deve avvicinarsi a questi bisogni, delle persone che dopo vedranno, vivranno le strutture che sono realizzate. dal punto di vista della cultura generale, gli aspetti più importanti sono avere in testa dei principi semplici, chiari, ordinati, e principi che si trovano in testi sacri, come questo qui, per quanto riguarda l'acciaio, oppure questo qui in generale, anche per l'analisi strutturale, e per le travi in acciaio. Questo è un aspetto essenziale, ci deve essere una chiarezza di idee, di intenti, nel concepire, realizzare una struttura, e anche nel verificarlo. Purtroppo è paradossale che, soprattutto in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, in questo ultimo decennio, l'eccesso di norme tecniche è un qualcosa che contrasta e a volte ottenebra la mente dei progettisti. Queste sono, tra l'altro, parole che hanno quasi 30 anni, perché sono del 92, del professor Pozzati, e, che le leggiamo insieme, sono assolutamente attuali. Un numero di regole eccessive comporta vari inconvenienti. L'impoverimento dell'autonomia e della creatività del progettista, il progettista è irretito dalle norme, esiste una difficoltà di discernere tra quello che veramente conta e quello che è un dettaglio, sembra di essere a riparo dalle responsabilità. Poi è anche difficile rendersi conto dei ragionamenti che stanno alla base e giustificano certe regole, anche certi schemi operativi. E questo è pericoloso perché dopo, una volta presi in maniera automatica, il pensiero non è più chiamato in causa a giustificare, a valutare la bontà di questi presupposti. Questo è importante perché noi, alle volte, abbiamo una cosa più pericolosa, credo, secondo me, è avere in testa delle gabbie mentali da cui non si esce. parlando di progettazione strutturale, parlando del settore scientifico, disciplinare, tecniche e costruzioni, ecco, in questo libro qua sono presentate in maniera chiara quelle che sono le difficoltà di una persona che voglia fare carriera accademica all'interno del settore. questo è un libro bellissimo di progettazione anche se parla di sistemi artificiali in senso generale, quindi, tra l'altro, Simon era un economista, questo anche per dirvi, se torniamo prima all'idea di Morari, il termine di progettazione è qualcosa che è assolutamente trasversale, generale nel modo di cambiare il mondo che ha l'uomo. Ecco, nella introduzione a questo libro qua è presente questa osservazione qua. storicamente per le scuole di ingegneria è stato importante, è stato il compito principale insegnare a come fare le cose artificiali, tutti i prodotti artefatti, come si fanno. Però questi aspetti qui la parte di progettazione è difficilmente inquadrabile in termini formati analitici ed è difficilmente formalizzabile ed è difficile da insegnare. Per tutto questo spesso volentieri le università, in particolare i politecnici o comunque diciamo tutti i settori tecnici hanno sempre cercato cercato purtroppo si sono mossi in questi ultimi decenni verso un approccio che è più scientifico in particolare se devo essere proprio chiaro a giorno d'oggi più che insegnare o perdere tempo nell'insegnare o pensare a come si progetta è meglio scrivere articoli scientifici che sono quelli che fanno aumentare il cosiddetto H-index e per esempio a giorno d'oggi avere un H-index alto sembra appare anche se in maniera totalmente fuorviante e efimera diceva avere tante pubblicazioni o un H-index grande sembra far acquisire alla persona una maggiore scientificità una maggiore rispettabilità questa è una traslazione dei obiettivi del settore di tecnica che è effettivamente difficile a contrastare e ha delle ricadute pesanti assolutamente negative uno anche degli aspetti che forse in questi ultimi anni o diciamo anche gli ultimi vent'anni direi da quando sono ordinario io viene considerata sempre di meno è la storia con cui si è arrivati a definire il settore disciplinare perché per esempio chiedete all'ingegneria aeronautica per dire sa benissimo qual è questo aereo qua qual è la vicenda la storia di questo aereo qua quando è stato fatto e sa benissimo qual è il termine evolutivo di quel tipo di aeroplano e questa è una cosa che noi invece strutturisti dell'ingegneria civile abbiamo un po' dimenticato gli aeronautici hanno per esempio dei libri bellissimi come questo in cui si spiega ripercorrendo la storia dell'evoluzione degli aeroplani come gli ingegneri imparano le cose come accumulano conoscenza noi strutturisti in particolare civili dovremo ricostruire questa questa storia averla ben presente in testa anche quando insegniamo per esempio se siamo professori di tecniche di costruzioni per esempio questo è uno dei libri più belli di storia di ingegneria strutturale in cui vengono presentati quelli che sono i diciamo i pensatori le persone che hanno negli anni configurato l'ingegneria strutturale come arte e quindi sono assolutamente centrali nel nostro settore disciplinare una delle cose più importanti nel ripercorrere la storia rivedere le cose come sono state fatte come sono evolute è per esempio che si può in questa maniera qui imparare come per esempio gli schemi strutturali qui vedete degli schemi strutturali relativi a ponti sospesi si sono sviluppati perché certe forme strutturali sono diventate desuete sono anche magari state abbandonate e perché sono state abbandonate mentre al stesso tempo perché altre forme strutturali sono emerse sono apparse inizialmente i migliori e dopo effettivamente hanno provato di essere i migliori lo studio della storia della tecnica è assolutamente speratrice perché per esempio anche vedere come erano conformati gli edifici questa è la pianta di Michelangelo di San Pietro come sono stati concepiti disposti organizzati gli edifici in passato è essenziale per esempio anche qui si vedono gli aspetti geometrici e ci sono per esempio anche degli studi questo qui per esempio è un modello realizzato in legno della chiesa di San Carlo alle quattro fontane per esempio possono dare anche delle ispirazioni su come dopo progettare e anche realizzare strutture nuove questa qui è una struttura un modello realizzato sul lago di Lugano dall'architettivo botta con assi di legno e beh se voi pensate se voi guardaste qui i vari strati di assi di legno questo può essere può dare l'idea per esempio di quello che si può fare con una stampante additiva per realizzare un edificio quindi il passato è sicuramente ispiratore di quello che si può anche fare permette anche di capire dare la giusta importanza ai vari sistemi anche di calcolo di progettazione di verifica eccetera perché per esempio se uno legge questo libro qua si rende conto comprende che magari per diversi secoli gli aspetti diciamo puramente geometrici o anche grafici per noi è essenziale arrivare anche a definire come si costruisce la costruzione questo è un aspetto che sicuramente è specifico di tecnica costruzione pensando magari a altri settori anche vicini come scienze di costruzione per noi anche capire come costruire una cosa è essenziale perché altrimenti non si arriva all'obiettivo di cambiare il mondo il secondo punto che vorrei vedere con voi secondo statement è questo il progetto strutturale riguarda tutto il ciclo di vita con una visione olistica in cui sono considerati tutti gli aspetti di una costruzione considerando come la costruzione la struttura è messa in un certo ambiente e ovviamente assumendosi la responsabilità delle decisioni progettare è prima abbiamo visto il progetto è un processo di sintesi poi il progetto è un processo di decisione è un processo decisionale le decisioni che si prendono nella progettazione sono basate su previsioni e qui vedete anche uno schema che rende rende conto della difficoltà in genere noi abbiamo una storia passata conosciamo una certa base di dati sul passato questi dati qui per esempio possono essere anche facilmente interpretati con interpolazione o prossimazioni mentre il futuro è un'altra cosa il processo di estrapolazione è difficile per cui magari quello che può sembrare sensato o anche molto preciso come un processo di interpolazione nel passato può essere completamente fuorviante rispetto a quello che succederà e quindi questo è il problema di pensare e soprattutto in questi ultimi anni qua è emerso che gli eventi con bassa probabilità possono avere degli effetti anche molto pesanti anche di rompenti e questo è per esempio quello che viene racchiuso nel concetto di cigno nero e sono situazioni particolarissime che sono inattese una volta avvenute hanno un evento notevole e a volte cambiano come è successo per esempio se pensate alle torri gemelle cambiano anche la comunità tecnica come intende il problema come pensa di risolvere il problema quindi sono anche dei cambi del paradigma con cui si affrontano i problemi e poi anche la cosa che è indicativa di questi fenomeni qua che una volta avvenuti sono anche facilmente spiegabili anzi appaiono anche come obbligo quindi è necessario prevedere quello che succederà a tutta la nostra struttura nella sua vita in questo piano qui noi abbiamo l'orizzonte temporale in cui si svolge la vita e la struttura la struttura parte nella sua configurazione integra e man mano che passa il tempo in maniera continua perde di capacità di qualità tutte queste capacità qualità le possiamo inserire nel concetto di integrità strutturale a parte questo degrado continuo che fa riferimento alla durabilità ci sono delle situazioni degli eventi particolari che vengono in ben precisi momenti che fanno deviare la traiettoria della risposta strutturale in altri termini su un altro piano alcune situazioni accidentali alle volte anche diciamo prima degli attacchi terroristici eventi comunque specifici discreti oppure magari anche gli errori alle volte anche latenti che sono presenti nel progetto nella costruzione nella manutenzione anche nella gestione in generale della struttura e in questo caso qui la caduta di integrità strutturale avviene in ben precisi momenti e riguarda una qualità differente e quella di robustezza la possibilità della struttura la capacità della struttura di sopravvivere a eventi comunque inattesi ovvero dimostrarsi con una perdita che è non sproporzionata rispetto all'evento negativo esiste poi anche il problema di riportare la struttura alla sua integrità iniziale in questo caso qui riferimento a quello che viene detto resilienza in cui per esempio si distingue se una struttura è più facilmente diciamo in senso anche semplice riparabile adeguabile e riportabile alle sue funzioni previste nel processo previsionale che sta alla base della progettazione indubbiamente una delle cose su cui riflettere è questo il progettista deve essere attento a quelli che possono essere i modi con cui una struttura collassa quindi come può venire una crisi strutturale in generale parlando di progettazione dei sistemi quindi il problema è come avviene la crisi la failure di un sistema ed è interessante notare che se voi pensate a tutte le possibili realizzazioni di questi incidenti di questi collassi di queste crisi è interessante notare che gran parte di essi possono essere esplicitati spiegati con riferimento a un modello unico che è il modello di Rison che tra l'altro è interessante notare era un sociologo quindi una persona non tecnica ecco questo è il percorso di crisi di un qualsiasi sistema quindi particolarmente di una costruzione secondo Rison Rison immagina che nelle varie fasi che caratterizzano il concepire una struttura progettarla verificarla dopo realizzarla anche utilizzarla e chiaramente anche manutenerla e monitorarla in tutte queste fasi qui ci possono essere delle deficienze delle mancanze delle debolezze ciascuna fase rappresentata con come se fosse un layer un gate oppure se volete anche un firewall che però non è perfetto quindi per esempio ci sono delle mancanze in ciascuna di queste fasi qui ad esempio nella costruzione c'è questa mancanza qui questa e questa e così via e secondo il modello di Rison il collasso strutturale la crisi la failure avviene quando tutte queste debolezze qua si allineano lungo un bel preciso percorso e in quel caso lì arriva la crisi strutturale quindi interessante per esempio anche pensare a come una struttura collassa proprio perché magari per esempio dedicare eccessivamente attenzione solo al calcolo è chiaro che magari il buco qui si restringe ma dalle altre parti le debolezze della struttura insite nella struttura sono evidenti molto più grandi magari permettono effettivamente realizzarsi di una crisi questo è un modello complessivo in particolare per esempio questi due aspetti qui sono in genere aspetti che sono impliciti nella progettazione quindi non evidenti magari anche di cui la persona che progetta non ha consapevolezza e per quello che per esempio prima anche nella nostra disciplina di tecnica delle costruzioni mettere in evidenza quello che è stata la storia e quindi quello che sono le conoscenze in un certo momento preciso con cui si concepisce la struttura è un aspetto essenziale per eventualmente prevenirne il collasso il terzo statement che vorrei mettere sul tavolo riguardo all'analisi strutturale l'analisi strutturale è un'attività centrale è un processo di progettazione strutturale ed è un'attività essenziale un punto fondamentale per il nostro settore di tecniche di costruzione l'analisi strutturale è un processo con cui si capisce e si esplora qualitativamente e quantitativamente il comportamento strutturale quindi si capisce come funziona una struttura e in particolare l'aspetto più delicato si capisce si deve capire quello che è la relazione la differenza tra il modello con tutte le sue potenzialità i suoi limiti e la realtà permettetemi due slide personali nell'83 quando ero sono entrato al Politecnico in Milano io programmavo perforando le schede realizzando programmi in fortuna come vedete qua questa qui invece è un'altra immagine che mi è cara perché riguarda i 4-5 anni che ho sviluppato analisi sul ponte di Messina e all'inizio degli anni 2000 mi è capitato di riprendere in mano le relazioni di calcolo che erano state fatte nel 92 da Steyman a New York come vedete Steyman era come sapete era una delle più grosse società esperte in ponti sospesi e Steyman nel 92 con il codice di calcolo Cosmos che è un buon codice di calcolo sviluppavo queste analisi sulle gambe delle torri qui vedete il famoso cassone tripartito tricellulare e questo qui è il traverso in prossimità delle gambe vedete qui anche quello che era la capacità di calcolo del 92 in quegli anni lì il ponte più lungo del mondo venia calcolato con questa discretizzazione strutturale questo per far capire anche come alle volte nelle analisi o quelle che si pensano sia analisi strutturale ci sono magari modelli con milioni di elementi finiti che poi non sono quelli non è l'approccio giusto per analizzare e capire come funziona la struttura questo è anche un diagramma molto schematico in cui si può vedere che in effetti l'analisi è inserita innestata nel processo complessivo di sintesi questo è uno schema diciamo un po' più più semplificato aspetto a quello che è la progettazione per Schleich però rende l'idea di come di quale è il ruolo centrale dell'analisi della progettazione strutturale questa è questa slide qui rappresenta quelle che sono a luce della mia esperienza gli aspetti fondamentali dell'analisi strutturale ho già detto che l'analisi strutturale è una esplorazione del comportamento strutturale in cui via via noi partendo da modelli più semplici raffiniamo i modelli fino a creare rappresentazioni della struttura sempre più tendenzialmente raffinate complesse deve essere segnalata l'idea l'importanza di un approccio di partenza elementare prendendo soluzioni semplici anche da manuale ingegnere e quant'altro e soluzioni analitiche che formano il primo passo e lo sviluppo di questi modelli qua segue fondamentalmente queste due regole qua ogni volta che io introduco un nuovo modello aggiungo qualcosa nella rappresentazione della struttura nella descrizione della struttura e guardo se quello che ho inserito è un aspetto importante oppure no e lo faccio considerando delle variazioni percentuali nella risposta se una variazione non è grande quello che ho inserito non è significativo per il comportamento strutturale altrimenti imparo che quello che ho introdotto è un aspetto significativo che va considerato e così procedo l'altro punto essenziale è anche questo ogni volta che avanzo e soprattutto nella fase di partenza io devo avere una banda che delimita la soluzione o che mi aspetto in cui ci sia la soluzione questo anche perché il processo di analisi non è un processo la cieca in cui io sparo un colpo nel buio è un processo mirato in cui devo già avere un'idea di quello che succederà infine l'analisi deve prevedere una ridondanza di processo ovvero deve essere un'analisi robusta nel senso che io devo ripetere con più schemi risolutivi il problema per avere una soluzione che dopo sia effettivamente accettata consapevolmente e questo è un aspetto importante dipende chiaramente dalla complessità del problema però è un aspetto considerato ritorno anche a dire che i modelli analitici semplici le valutazioni che si fanno anche con la penna e con la calcolatrice sono uno dei presupposti essenziali ad avere dei risultati corretti e infine sottolineo l'importanza di capire cosa succede nei vari passi per avere una chiara idea di quello che si sta facendo il significato di comprendere l'analisi quello che sta facendo il calcolatore quello che si ottiene per esempio può essere rappresentato in questa maniera qui considerate esempio questo è un caso presente in letteratura il pushover realizzato su questo edificio qua su questo edificio alto qui ecco questa è la risposta in cui chiaramente è evidenziato dall'analista a ogni diminuzione ogni salto della capacità resistente cosa è successo e quindi in questa maniera qui l'analista comprende cosa è successo quanto vale la rottura cosa comporta la rottura di un elemento e così via l'analista strutturale è quindi ben lontana dai fascicoli dalle centinaia di pagine punto 6 con milioni di numeri come sono rappresentati qua che non servono assolutamente a nulla processo di analisi è un processo strutturato che segue regole ben precise anche dal punto di vista grafico nell'impostazione grafica anche delle relazioni del modo di fare come per esempio è rappresentato molto bene in questo manuale qua è un processo quindi lineare che sviluppa ordinatamente tutte le varie fasi ogni processo di analisi è un processo gerarchico e organizzato come è rappresentato qui per esempio il caso dell'analisi chiaramente anche della progettazione in fase di caso di incendio l'analisi strutturale si basa chiaramente anche su una visione gerarchica della struttura in cui per esempio il generico ponte come può essere questo ponte sospeso è suddiviso in parti principati parti secondarie eccetera in modo tale che si riesce subito anche a individuare quello che è l'importanza delle singole parti quello che si può per esempio perdere in caso di sisma di una certa intensità magari con un periodo di ritorno breve cosa si può perdere in casi più di sisma con periodi di ritorno più lunghi e cosa invece non si può mai perdere a meno di non dover rinunciare all'opera la vista naturale anche si sviluppa un processo che si sviluppa che caratterizza serve a caratterizzare la struttura lungo il suo ciclo di vita quindi per esempio è considerata la struttura come è stata progettata come viene realizzata in una certa fase della sua vita e poi eventualmente come è collassata ecco durante tutte queste fasi qui si possono sviluppare ordinatamente processi di analisi strutturale fino a comprendere cosa è successo cosa è cambiato ma però anche comunque tenuto in conto che tutti i nostri modelli sono quindi anche i calcoli sono comunque rappresentazioni con un certo convenzionalismo della struttura vera o propria quindi si deve comunque insegnare e dare far notare che dare loro importanza eccessiva è forviante infatti la concezione della struttura per concezione della struttura si intende concezione generale nello schema portante la distribuzione armonica delle masse particolari costruttivi eccetera fino ad arrivare anche alla presenza chiaramente di elementi strutturali e poi tenere conto anche della parte di terreno coinvolta dalla struttura calcolo quindi non può non può eliminare l'intervento umano oggi spesso volentieri si parla anche di processi automatici alle volte si parla anche di intelligenza artificiale e tutte queste tecniche qua come anche per esempio l'introduzione del BIM sono sicuramente strumenti ma non possono sostituire il ruolo dell'ingegnere e questo deve essere messo in evidenza e insegnato l'ultimo l'ultimo statement da considerare prima di affrontare l'aspetto della didattica vera e propria quindi l'ultimo presupposto prima di arrivare alla didattica è questo è essenziale assolutamente avere presente casi reali di costruzione cosa succede in realtà con uno slogan dalla realtà ci guida noi di tecnica siamo guidati dalla realtà perché vogliamo anche capirla e anche cambiarla e uno degli aspetti assolutamente a volte delicate a volte anche triste che però è importante perché rappresenta una occasione di imparare qualcosa sono i casi di fallimenti ovvero quando succede qualcosa una qualche crisi strutturale allora si riesce a vedere e anche riflettere su quello che è importante e meno importante questa è un'affermazione che è anche ovvia no? chi insegna tecnica delle costruzioni insegna a progettare deve avere un contatto con la pratica perché sarebbe come se uno andasse a operarsi magari con farsi operare da un docente medicina con un alto H-index come visto prima ma senza nessuna esperienza quindi andare a farsi operare da un medico che non ha mai aperto la pancia a nessuno capire capire i collassi perché succede qualcosa è un aspetto significativo perché richiede insight poi si vede dal vivo cosa è successo e anche effettivamente si pesano con le giuste maniere nella giusta maniera i vari concetti che si elaborano magari teoricamente uno degli aspetti anche più significativi è quello di riflettere sul fatto che ci sono diversi livelli di crisi strutturale pericolagene sono alcuni che sono convenzionali come per esempio quello che considera la crisi puntuale il materiale che può essere superata se il materiale non è fragile l'elemento la verifica sezionale come è considerata negli usuali stati limiti ultimi poi elementi magari che si possono stabilizzare verifica di elementi singoli come questa qui queste sono la parte di verifiche la parte di crisi considerate convenzionalmente le verifiche usuali stati limiti ultimi e quelle di esercizi e deve essere osservato che in generale non rappresentano completamente comportamento strutturale che può essere valutato solo considerando delle analisi quindi le possibilità di collasso livello di sistema strutturale come quando si fa per esempio nel caso delle valutazioni di robustezza è chiaro che la modellazione qui è più completa quindi anche più onerosa e uno degli aspetti anche che deve essere evidenziato è anche questo ci sono collassi buoni e collassi cattivi per esempio se si considera queste due strutture qui che sotto lo stesso carico possono collassare in questo modo in questo modo oppure in questo qui parità di capacità portante questo è un modo buono di collassare a differenza di questo perché in questo modo qui non coinvolge altre strutture o zone adiacenti alla struttura a differenza di questa e questo può essere l'inizio di un processo di collasso non confinato o un collasso progressivo poi anche l'analisi dei collassi serve subito a far capire come la concezione della struttura ha in sé porta in sé quelli che sono i pregi difetti connaturati alla struttura quindi in un certo senso sia i pregi ma anche per esempio le tare genetiche della struttura guardiamo per esempio questa struttura qui pensiamo come può collassare pensiamo come può collassare pensiamo come può collassare è collassata così vedete che la struttura d'arco è una struttura che in questo caso qui col passaggio sotto delle navi intrinsecamente soggetta prima o poi a una crisi strutturale di questo tipo qua per esempio si deve insegnare anche agli studenti che se vogliono diventare dei bravi progettisti i problemi vanno risolti vanno eliminati alla base quindi per esempio come è stato fatto anche in questo caso qui la soluzione al riparo da queste crisi qui è scegliere un ponte che abbia l'impalcato una parte sottostante l'impalcato assolutamente libera ecco questo è un punto essenziale della nostra disciplina si deve insegnare quello che è importante e più generale qualitativo senza dopo volere a tutti i costi entrare o propugnare metodi precisi puntuali anche magari molto circonvoluti che però non sono quelli che portano al risultato allo studente deve essere insegnata la disciplina del progetto una forma lineare immediata in cui si parte delle cose più generali e si arriva ai dettagli e si deve assolutamente evitare di proporre delle soluzioni che sono sbagliate e che dopo si vuole a tutti i costi giustificare il il pensiero a quello che è successo è importante perché chiude il cerchio nel senso che normalmente in una fase di progettazione noi dobbiamo prevedere come dovrà essere la struttura e cosa subirà e e viceversa quando noi siamo arrivati al fondo quando la struttura per esempio è collassata o ha un funzionamento sbagliato noi qui torniamo indietro al punto iniziale a capire come mai si è arrivati a questa situazione non non corretta non favorevole e in un ciclo iterativo si può quindi pensare di progressivamente aumentare le conoscenze con cui si progetta si capisce si concepisce si progetta una struttura in modo tale che si ottengono sempre migliori risultati alle volte questo implica anche effettivamente riflettere su casi storici che hanno portato dei cambi di paradigma nella comunità tecnica e nel nostro modo di ingegneri di operare bisogna anche pensare a questo aspetto qua pensando alle cause di un fallimento strutturale in generale di un fallimento di un sistema questo diagramma qui è significativo qui abbiamo la percentuale delle crisi qui abbiamo l'andamento nel tempo e mentre per esempio nel passato c'erano fenomeni che non erano noti neanche a livello di ricerca e portavano quindi a fallimenti successivamente si vede come questi fenomeni qui al passare del tempo transitano tra quelli conosciuti a livello di ricerca e successivamente anche tra quelli che sono normati dai vari standard come si vede man mano che aumenta passa il tempo cioè l'evoluzione della tecnica i fenomeni non noti diventano sempre più piccoli come anche quelli che non sono normati e invece gran parte dei collassi delle crisi dei fallimenti strutturali sono dovuti a situazioni ben note sia a livello di ricerca che di norma e sono legate ad errori umani quindi l'errore umano diventa del fattore tipico stringente da controllare per evitare il collasso ci sono delle volte ci sono state nel passato anche delle situazioni in cui il collasso di una certa struttura è stato imputato a cause sbagliato e in particolare per esempio anche negli ultimi 15 anni le normative per esempio sono diventate anche molto più grevi molto più pesanti pensando di dover correggere dover imputare a questa al sisma dei crolli che invece erano figli di errore umano questo per esempio è su un sito tecnico della regione Emilia Romagna la spiegazione di come quella scuola precedente non è collassata per il sisma a causa di un errore umano e questo fa riflettere alle volte la stratificazione di norme viene fatta in maniera fallace cioè non è la cura per proteggersi dalle crisi strutturali a questo punto possiamo entrare nel merito con questi presupposti qua di come insegnare tecnica delle costruzioni questo è il principio che riguarda specificatamente l'insegnamento si deve insegnare partendo da principi meccanici generali facendo comprendere comportamenti strutturali sia quelli elementari che quelli complessivi e insegnando a organizzare correttamente le varie parti strutturali con una scelta coerente opportuna di materiali e aiutando lo studente a individuare quelle che sono le condizioni in cui la struttura si può trovare è un processo quindi attivo in cui per esempio lo studente deve pensare a tutto quello che può succedere sulla struttura il punto di partenza è comunque presupposto zero è quello della motivazione e questo è legato essenzialmente all'esempio che noi docenti diamo la cura che diamo nell'insegnare nel tracciare la lavagna i grafici i disegni non può esserci che altro punto di partenza che questo questo è dopo anche il modo con cui gli studenti riprendono capiscono l'importanza del disegno in una certa forma e così via la cura che bisogna avere nel sviluppare i concetti di metterli e nel metterli questo è il contrario anche per certi versi alla tendenza attuale della società in cui essenzialmente c'è una frammentazione del modo di fare di vivere e di lavorare e quindi per certi versi è anche una sfida la tecnica di costruzione è una materia una disciplina che considera tutte le strutture che possono essere di servizio a soddisfare i bisogni della società quindi è sicuramente una disciplina che deve avere sensibilità a cultura e una visione ampia e non frammentata delle cose ecco con questi presupposti qua possiamo cominciare a vedere quelli che sono i punti specifici che si deve avere in mente in tutti i vari tipi di corsi che si possono fare all'interno della disciplina di tecnica di costruzione il primo aspetto è questo la struttura è spaziale quindi questo concetto qui deve essere sempre tenuto presente nelle lezioni fatto sempre comprensibile agli studenti facendo capire che la struttura è qualcosa di spaziale quindi ha una innegabile caratteristica geometrica e per esempio uno degli aspetti anche da considerare è questo i modelli che vi ho fatto vedere prima sono anche estremamente utili e efficaci nel far capire cos'è una struttura e anche perché gli studenti possono per esempio vedere da tutte le parti qualcosa di simile si può simulare con la realtà virtuale con la modellazione geometrica eccetera però l'oggetto fisico è anche un modello ha le caratteristiche sensuali della materia che sono quelle che devono anche far pensare quando si progetta qualcosa secondo punto che deve essere ben in testa sia al docente che anche a quello che si trasmette agli studenti è che la costruzione è un sistema ordinato sistema gerarchico ci sono parti principali parti via via più di dettaglio ma il tutto collegato in una maniera che sia assolutamente ordinata per esempio in questo tipico edificio in questo schema di edificio sono presenti tre parti strutturali un sistema che chiaramente raccoglie i carichi come possono essere questi orizzontamenti nel caso dei carichi verticali o di utilizzo del sistema un sistema che trasferisce i carichi dai punti di raccolta alle fondazioni e un sistema di stabilizzazione e questo è un modo di individuare all'interno di qualsiasi costruzione delle parti con compiti ben precisi che devono essere riconosciuti in termini se volete anche di descrizione della struttura se pensiamo a come possiamo descrivere la struttura essenzialmente abbiamo questi livelli un livello microscopico in cui parliamo della geometria in dettaglio quindi per i venuti dei spessori che danno luogo altre caratteristiche sezionali come l'area le inerzie eccetera un sistema invece un livello intermedio in cui stiamo sul generico elemento strutturale come può essere una trave oppure una lama di controvento in cui essenzialmente quello che conta è l'asse complessivo di questo elemento la sua forma nel senso di curvatura il suo profilo eccetera poi il livello più elevato di descrizione della struttura riguarda come le varie parti strutturali sono connesse tra di loro e questa è una parte che dopo influenza grandemente quello che è il percorso del carico all'interno della struttura qui abbiamo gli stessi tre livelli espressi non come livelli di descrizione ma come livelli di ottimizzazione per esempio questa è la parte di sizing il dimensionamento sezionale che è la parte diciamo più tradizionale anche usuale anche nei primi coci di calcolo ci sono algoritmi che producono automaticamente questo dimensionamento ottimale e poi invece qui ci aspetti qua la forma e questo invece è l'elemento livello più alto la topologia perché vedete riguarda come due parti strutturali l'impalcato e l'arcone sono connesse tra di loro con dei collegamenti intermedi molto radi ma magari molto robusti oppure molto esili ma distribuiti questo dà carattere una struttura in particolare spiega come il carico per esempio un carico di traffico dall'impalcato viene trasmesso all'arcone che trasferisce il carico alle fondazioni connesso all'organizzazione del sistema strutturale è il percorso dei carichi rappresentato come detti qui con un'analogia come se fosse un fluido il cui carico fluisce dal punto di applicazione al suolo è interessante anche far sempre vedere agli studenti che ci sono nella varietà di meccanismi strutturali meccanismi importanti ci sono fondamentalmente poche categorie che sono quelle rappresentate qui che hanno caratteristiche e peculiarità ben precise nel modo di sopportare e trasferire il carico alle fondazioni e anche l'idea di sistema strutturale è qualcosa che serve anche a organizzare e anche pensare come il proprio carico fluisce dal punto di applicazione e via via viene trasmesso alle fondazioni con tutte le possibilità dal punto di vista progettuale di trasferire il carico in una direzione o in più direzione o quant'altro si vuole questo percorso dei carichi è anche quello che viene per discriminare azioni differenti per esempio in questo caso di voltina lunga l'azione predominante è quella longitudinale tipo flessionale e questa azione qui per forma tipo arco è una questione invece secondaria all'opposto la geometria di questa voltina corta prevede che l'azione principale sia quella primaria sia quella d'arco e poi successivamente c'è quella flessionale dei bordi della funglia il percorso di carichi è un concetto che deve essere assolutamente espresso agli studenti e può essere espresso anche in forma elementare come sono per esempio le funicolari dei carichi come sono rappresentati qui in questi archi di strutture gotiche oppure con osservazioni anche magari sulla dualità tra comportamenti di pura trazione come può essere questa funicolare oppure di pura compressione come può essere la curva delle pressioni riportata solo e il flusso dei carichi il percorso dei carichi è qualcosa che è intrinseco a tutti i tipi di strutture quindi anche in biomeccanica ha degli aspetti che si ritrovano esattamente come nel caso del grattacente relativamente al percorso dei carichi è importante anche e sarebbe auspicabile anche riuscire a realizzare una sperimentazione per far toccare con mano proprio l'oggetto fisico e come si comporta come è stato fatto per esempio in questo caso oppure anche come può essere pensato all'opposto in questo caso in cui proprio si realizzano i modelli con cui si comprende si tocca con mano il fluire del carico e sempre all'interno della struttura deve essere sempre posto immediatamente in luce quelle che sono regioni in cui si possono applicare teorie e formulazioni in maniera precisa e quelle invece dove il regime tensionale per esempio presenta un ingorgo quindi per esempio ci sono dei concetti come quello di regioni diffusive regioni di Bernoulli dove si possono applicare la teoria della trave eccetera mentre nelle altre nelle regioni diffusive non si può fare questo e questo è un importante punto in cui lo studente capisce che certi modelli semplici non possono essere applicati ovunque e quindi qui ci sono degli approcci che sono per esempio di tipo anche neuristico basate su ragionamenti più sottili come può essere l'analisi limite che permettono comunque all'ingegnere di progettare questa struttura il rapporto con le ipotesi alla base delle teorie analitiche è un rapporto essenziale perché in generale noi di tecnica di costruzione usciamo lavoriamo in zone in cui le ipotesi non valgono ovvero non valgono completamente quindi bisogna riuscire a far capire al studente come padroneggiare il concetto di approssimazione di fatto che si vive si opera in situazioni che sono al limite e fargli notare anche per esempio come certe strutture hanno delle regioni di singolarità più limitate mentre altre regioni sono tutte zone singolari e questo non è soltanto per saperlo applicare perfettamente e coerentemente le equazioni analitiche e quant'altro è anche perché dopo dal punto di vista progettuale ci sono degli spunti per riuscire a correggere il comportamento strutturale non tanto per farlo avvicinare più all'equazione all'impostazione analitica quanto per far lavorare la struttura meglio con per esempio la presenza di questi diaframmi e quant'altro tutto ciò presuppone che ci sia stata spiegata e sia stata compresa chiaramente la formulazione dei casi strutturali elementari come per esempio la sezione il modello di trave è sicuramente un punto di partenza su cui si deve riflettere e anche pensare a come estenderlo per esempio in questo caso qui con il modello di trave di dracker nella fine degli anni 50 la trave è considerata interpretata come con una sezione che ruota stando piana questo è il vincolo cinematico della sezione che ruota stando piana e poi un fascio di fibre a cui si possono assegnare comportamenti strutturali lineari non lineari e quant'altro anche considerare travi infatti di materiale disomogeneo per esempio una di queste fibre qua una di queste bielle qui può essere d'acciaio e il resto può essere calcestruzzo queste sono anche riflessioni anche elementari che permettono però di comprendere veramente padroneggiare il modello di travella di san venant e per esempio questo è il vincolo cinematico che permette di risolvere un problema che altrimenti sarebbe con tutte le fibre in parallelo iperstatico è anche importante materializzare i vari modelli questo per esempio è chiaramente il modello di trave a Timoschenko in cui c'è lo scorrimento la variazione angolare tra l'asse della trave e la sezione ecco bisogna stimolare gli studenti a proprio materializzare i concetti i modelli in modo tale che abbiano qualcosa di concreto a cui sempre riferirsi e allo stesso tempo dopo devono essere anche considerati tutti i modelli elementari che possono essere presenti come scheletro portante all'interno della struttura per esempio chiaramente uno degli esempi uno dei modelli più importanti in tutte le tecniche di costruzione è il modello di Rittermosh nel caso di trave in termato e ce ne sono altre per esempio questo è per quanto riguarda le trave in acciaio a parete sottile che sono lo stringer panel in cui si individuano di correnti inferiori e superiori e dei pannelli che invece lavorano a taglio e la conoscenza di questi comportamenti semplici deve portare deve sforzare lo studente in maniera naturale però ad avere una capacità di generalizzare i comportamenti per esempio questo ponte qui con lo schema Virendel e questo qui è poi quello che si ruota diventa il telaio share type quindi questa è la trave Virendel in orizzontale in verticale diventa un telaio share type come rappresentato qui anche qui per esempio serve l'immaginazione anche per vedere le simmetrie le antisimmetrie capire come questa mensola qui per esempio la metà di questa e così via pensate ad esempio gli aspetti relativi alle formate critiche e poi ci sono tutte la generalizzazione permette di riconoscere delle analogie questa unione bullonata taglio può essere considerata in prima battuta un telaio share type e nella stessa maniera proseguendo questa comprensione meccanica di analogie fra differenti modelli differenti scale permette anche di formulare modelli numerici per esempio anche elementi finiti in cui esistono dei fenomeni di accoppiamento come questo in cui ci sono due elementi di trave sovrapposti una con un certo offset per rappresentare la barra di armatura e si possono costruire quindi costruire quindi dei modelli numerici che simulino i comportamenti più complicati questo è un altro caso in cui possiamo considerare degli strati di materiali differenti e quindi possiamo inserire possiamo valutare l'inserimento di materiali comunque complicati per esempio pensate al fatto che uno di questi strati quali elementi rappresenti la muratura e un altro strato per esempio rappresenti un qualche foglio di materiale composito o di qualche altro tipo che è sovrapposto alla muratura anche in termini di materiali deve essere presente una progressiva generalizzazione e una progressiva complicazione di quello che si insegna vedete che queste sono le ipotesi essenzialmente dei materiali e anche della struttura che si considera scienza di costruzioni per esempio una delle possibilità didattiche per esempio quella che è tradizionale intenzialmente presente nella scuola di Roma è presentare nel primo semestre di tecnica la parte in acciaio che ha dei comportamenti materiali più semplici anche se cominciano ad entrare degli aspetti che sono legati a come viene costruito il singolo elemento in acciaio e si introducono le imperfezioni gli aspetti dimensionali le inevitabili alleatorietà presenti nella struttura reale anche un elemento semplice in acciaio e ci sono chiaramente aspetti relativi ai liberberi di come si fabbrica o come si può costruire una cosa e si passa quindi da situazioni che sono definite a situazioni che invece devono essere approssimate ancora più difficile ancora più distante dal mondo delle scienze e costruzioni è quando si parla di calcestruzzo armato secondo semestre in cui il materiale ha dei comportamenti come ben sappiamo più complicati e qui entrano in gioco anche aspetti convenzionali la grossa stocasticità con cui ci si deve confrontare e gli aspetti anche di interpretazione del modello pensate anche prima abbiamo visto il modello di ritermo questo è quanto per esempio ripeto definito nella scuola di tecnico e costruzioni di Roma dove per esempio anche nel testo che avete visto precedentemente ci sono delle pagine di sintesi ma forse anche meglio questa è una delle prime pagine del testo di Radogna in cui viene anticipato tutto il percorso in cui si parte la tipica trave in acciaio poi la trave mista in cemento armato e poi cemento armato precompresso e quindi con un quadro unitario lo studente può rendersi conto di progressivamente come le cose sono più complicate può affrontarle e digerirle anche in maniera gli ultimi due punti che secondo me sono importanti da insegnare sono relativi a quello che sarà la capacità di esprimersi dei studenti una volta che diventeranno ingegneri architetti tecnici allora la prima cosa è la rappresentazione grafica che tra l'altro è anche quella che contrattualmente nei progetti è la verità su un documento fondamentale per me una rappresentazione grafica per esempio per far vedere una struttura è quella che vediamo qui con riferimento a questa vela e poi comunque ci sono dei bellissimi testi in cui sono rappresentati i particolari costruttivi questo è un ponte in acciaio chiaramente una stratura mista ecco deve essere insegnata la cura con cui si sviluppano i disegni partendo anche da schemi molto semplici anche degli schizzi e dopo successivamente si possono usare tutti gli strumenti informatici possibili immaginabili ma l'inizio è quello importante anche per l'organizzazione come un quadro di questi tavoli qua voglio dire dopo il giorno d'oggi si parla tanto si propongono tanto metodi grafici automatizzati anche con potenzialità notevole come il BIM sicuramente sono tutti strumenti utili ma la rappresentazione grafica parte dal tracciare delle linee su un foglio bianco tracciare le linee a mano e rappresentare schemi in questa maniera qui in forma chiara e comprensibile dopo ci sono anche tutti gli aspetti di restituzione informatica però questo è il punto di partenza vero riuscire a insegnare ai studenti la cura con cui si deve scrivere a mano partendo da un foglio bianco in modo tale che abbiano la capacità di esprimersi di far capire le loro idee progettuali sempre parlando di capacità di espressione è in dubbia che la competenza linguistica sia essenziale quindi per esempio ci deve essere cura nell'utilizzare i nomi specificare gli oggetti con termini appropriati e quant'altro che fanno parte del mestiere e di chi opera sulle strutture ecco con queste raccomandazioni indicazioni personali su come insegnare e anche esprimersi gli studenti ho finito la mia presentazione questi sono i cinque statement che ho discusso i primi quattro sono alla base della tecnica delle istruzioni e l'ultimo ci riguarda come tradurre questi statement in una forma di insegnamento che sia efficace e effettiva per gli studenti vorrei concludere con questa slide qua in cui secondo me si vede quello che è anche dalla parte la complicazione mentre la difficoltà nel far carriera in maniera seria nel settore di tegna e costruzioni ma d'altra parte secondo me questo fa vedere anche quello che è la bellezza del settore perché nel nostro settore è presente tutto è presente il mondo reale con cui noi affrontiamo un problema reale e cerchiamo di risolverlo per fare questo spesso volentieri dobbiamo studiare e sviluppare ricerche in modo da inventare cose nuove scoprire nuovi modi di risolvere il problema e dopo chiaramente c'è la parte anche in cui meditiamo quello che abbiamo studiato quello che abbiamo affrontato e lo spieghiamo lo spieghiamo in un'aula agli studenti e gli studenti capiscono se noi parliamo di una cosa che abbiamo affrontato nella realtà su cui abbiamo sbattuto la testa e su cui abbiamo ragionato e su cui abbiamo dedicato tempo per lavorarci sopra vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti